e salve a tutti e bentornati o benvenuti nella mia cucina io sono Luzio 91 e sono il coco folle oggi voglio cimentarmi in una ricetta classica della cucina napoletana la pasta in lenticchie ed ora introduciamo gli ingredienti per quattro commensali gli ingredienti sono i seguenti iniziamo con 200 grammi di pasta io ho selezionato il formato dei tubetti irrigati 200 grammi di lenticchie un trito di cipolla carota sedano prezzemolo ed aglio una manciata di pomodorini tagliati a metà il sale quanto basta infine del buon olio extravergine d'oliva il primo step è quello di mettere ad ammollo le lenticchie per circa una decina di minuti dopo aver messo ad ammollo le lenticchie vi diamo un'altra sciacquata in una casseruola con olio caldo facciamo soffriggere le nostre verdure mentre il soffritto sta rosolando aggiungiamo anche i pomodorini una volta che il soffritto è pronto aggiungiamo l'acqua una volta che l'acqua arrivata a bollore aggiungiamo le lenticchie facciamo cuocere per circa mezz'ora durante la cottura aggiungiamo di sale adesso è il momento di calare la pasta pasta e lenticchie questo è il risultato finale molto bene adesso assaggiamo e quindi buon appetito questa pasta e lenticchie è veramente deliziosa e facile da preparare una vera e propria bontà io ve la suggerisco questa ricetta voi provatela e fatemi sapere come vi viene con questo dunque posso concludere il video se il video vi è piaciuto lasciate un bel like commentate e condividete mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati se volete supportare il mio progetto potete acquistare il libro delle mie ricette le ricette del cuoco fuori su amazon link in descrizione noi dunque ci vediamo al prossimo video ricordatevi che se vi sembra buono mangiatelo